niente lei ho visto tanti filmati su youtube è veramente un grande è un grande comunque guarda 76 ha detto 76 perché il film è penso 77 77 anni è un grande perché tiro giù la bicicletta quando faccio l'esibizione io sono qui oggi con il bici d'epoca sai che mi chiamano un po di partito fanno i passi domani 27 mila che faceva io per una famiglia è un soso è un grande perché ha fatto la fai a tirare giù qui questa perché mi è arrivata da poco questa è guarda allora sa che felice che mi ha fatto trovare ovvio qua quanto bella è anche adesso farà l'impresa l'impresa d'agosto dove sempre dove a stelio di notte di notte in agosto se tu vedi guarda a quante che giorno è tu sei un mio tifoso della donna perché non sono rimaste bocca perché vanno perché queste prima si rivolgevano a me perché non sanno che penso che il film lo faccio io hai capito e invece il film lo fa due registi di Torino allora adesso perché avevo detto siccome c'era la cosa della Red Bull ma non posso farlo con la Red Bull perché sono e loro mi fidavano un sacco di scuola per farlo ma non ho potuto farlo perché nei miei libri c'è scritto non so neppure cos'è un integratore salino ci sono sei capelli dentro la Red Bull allora poi avevo deciso di farlo io però sono intervenuti questi e il film è già pronto praticamente solo che uscirà prima di Natale prima di Natale dobbiamo fare le riprese di notte quelle che mi mancano anche quello dello Stelvio che vedi qui nello Stelvio te l'ho detto che due volte la RAI è venuta a volto perché è bello mattina sera neve quindi adesso vengono quegli operatori e li prendono capisci che giorni sono che lo fa l'impresa dello Stelvio adesso sarà può essere verso la fine di luglio i primi di agosto più o meno sono quelle e quindi questa sarà la discipletta che vorrei allora tutti la fotografa non l'hai capito è un grande allora tu con quella anche qui tu hai amici pensi che il film non costa neanche 9 euro per dirti neanche 9 euro questa tamponata e soltanto per se non lo facevano pagare di più sono io che ho detto no voglio che molti siano sempre stato lei ecco allora vedi tu cliccando qui già tu se hai più te puoi già vedere i primi due venuti e mezzo mi senti suonare il pianoforte benissimo e dopo tu cliccando qui guarda vedi www perché adesso mi hanno anche telefonato perché non ce l'hanno perché tu sei sono pochi che ce l'hanno ancora questa capisci allora mi hanno telefonato ho dovuto per telefono fargli questo per ritracciare il film hai capito ho capito e allora mandando presto sei sicuro di averlo prima di Natale è un grande 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 e tiro giù un attimo anche l'assistente dai ciao ciao carissima questa è la mia ombra e beh a una certa età ci vuole anche devo tenderlo anche perdo tutto è un gran portafoglio perdo e che robe ha sotto sai che so siccome i giornalisti che mi dicono lei deve essere un guidatore eccezionale no vi toccate tutto quanto riguarda le macchine infatti infatti guida io perché adesso da un grande aiuto dai adesso faccio con la bicicletta di nuovo mancherebbe altra è un grande questo qui è un unico è un grande è un numero uno altre storie quello che faceva lui non faceva nessuno è quello discorso è unico grande giuliano calore io sono da voi esce il mio film a dicembre tutta la storia di mia vita fa dove vanno lui eh eh io so 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 abita qua in centro là io so so tu di dove sei? io sono d'Albignasi vabbè vicino a Pado si guarda che anche lui è d'Albignasi 77 anni ha detto un grande allora volevano il film perché c'è però io non potevo eh vi tiro giù un attimo che voglio metto su youtube con grande così eh merita mica tutti i giorni allora vabbè lo faccio io tutti pensano che l'abbia fatto io il film allora tutti mi telefono il film anche adesso mi hanno telefonato perché voglio con pazienza di avere il film ma invece l'ha prodotto il film è già pronto solo che devo ripetere questo è il film perché la Rai è venuta tre volte a volto per la mattina e la sera nera perché lei va via sempre senza niente? no 12 regolini no 12 regolini no ma qui tocca fare la foto no eh eh vedi la foto mio ragazzi no io faccio un piccolo video per youtube poi è grande calore e mi metto che vuole non possiamo fare eh merita ma senza manu senza manu questo è una cosa che non fa nessuno al mondo ma va di parte ma questo qua la storia ha fatto un po' domani e hanno cercato di imitare parecchi nel mondo ma ma chi è andato male, è finito male e chi non può neanche rete una cosa di quel genere che ha fatto questo eh eh vi dico come potete rientrare oh vi dico subito ho cercato di fare che il film costa meno possibile perché voglio tanta gente ti do un attimo la videocamera per mettere giù un'arma che sia il film non costa neanche 9 euro neanche 9 euro e in dvd grande calore scaricare numero uno vedete il numero uno calore è un grande è unico è unico è unico Giuliano Calore da Padova unico al mondo metto il numero uno è il numero uno questo qui e allora tu è una persona semplice e unico grazie 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 un saluto va cliccando qui